benvenuti a tutti e grazie di essere connessi all'appuntamento di oggi durante il webinar capiremo come ottimizzare un sito per i core web vitals in maniera semplice senza rischiare penalizzazioni lo faremo assieme ad andrea cardinali ceo di performais andrea lasciate la parola grazie ben fa buongiorno a tutti gli spettatori sono che siete parecchi collegati io sono andrea cardinali e sono il fondatore di performance azienda specializzata nel rendere siti performanti come dice anche il nome giusto due parole su di me poi andiamo subito a parlare dei core web vitals mi occupo di web performance seo e programmazione da più di dieci anni e mi piace anche mi piace anche partecipare eventi formativi come questo e qualcuno di voi probabilmente mi avrà visto dei venti di settore come marketing festival world camp e via dicendo e di recente ho anche organizzato il primo workshop italiano sulle web performance rivolto a seo consulenti digital e programmatori finite le presentazioni passiamo subito a vedere il programma di oggi di cosa vi parlerò quindi di cosa sono i core web vitals di come misurare i core web vitals quali sono i limiti tecnici e nel finale le best practice per ottimizzare il core web vitals ma prima andiamo a vedere perché è importante la velocità